Parliamo con il bomber Dejan Marjanovic, autore di una tripletta oggi, una grande prova tua e anche dell'oltrepo. Sì, diciamo così, alla fine 4-1 non è stato così facile come è il risultato. Primo tempo, 20 minuti abbiamo giocato bene, dopo abbiamo un po' smesso dopo primo gol, ma siamo stati bravi in secondo tempo che abbiamo girato bene la palla e che è più importante che abbiamo fatto anche 4 gol alla fine. Secondo te sono stati più i meriti tuoi o anche la difesa del Pergo ti ha lasciato un po' troppo spazio? Ma no, non è difesa loro, è noi che lavoriamo bene, tutte le preparazioni abbiamo fatto bene, abbiamo lavorato bene in allenamenti e con compagni mi trovo benissimo. e quando giochiamo così anche per me è più facile fare gol e è merito di tutti noi, tutta la squadra. Adesso inizia il campionato, come lo affrontate? Voi siete una neopromossa e dove volete arrivare? Dove vogliamo arrivare non so, è difficile adesso parlare perché non abbiamo ancora iniziato, sicuro vogliamo fare un campionato buono, vediamo partita dopo partita come oggi, speriamo giocare come oggi e penso che possiamo far bene.